Quando siamo sulla strada ci sono dei cartelli che hanno varie forme e vari colori. Vediamo ad esempio cosa ci possiamo ricordare. Questo cartello cos'è? Questo cartello è... Attenzione, bravissimo! Attenzione, attenzione alla strada perché è molto curvosa, bravissimo! Vediamo un po' se riusciamo a capire che cos'è questo altro cartello. Questo! Bravissima, bravissima Samanta! E' un... Ho sbagliato, è vero? Nico! Nico! Nico? Hai cambiato nome? No, spero che è stato... Ecco, l'abbiamo visto?